Questo governo non c'è, questo è il governo della Lega, mi spiace, io ho accolto con piacere il Presidente del Consiglio in un pezzo di suolo italiano, qual è il Lampedusa, oltre che siciliano, il Presidente del Consiglio ha detto le sue cose, è vero le navi sono partite con tanta gente, quindi non possiamo che prenderne atto positivamente, ma intanto il cosiddetto rubinetto non si è chiuso, e l'unica soluzione che si poteva adottare non viene adottata, che ci vuole a fare finalmente una cosa di buonsenso, lo dico al Ministro dell'Interno che indubbiamente in questa vicenda sta scommettendo tutto se stesso e la figura che il governo va facendo, non è delle migliori, questo primo approdo piuttosto che sulla terraferma lo si faccia a 100 metri fuori dal porto con delle navi militari, portino lì la nostra cosiddetta portaerei, se portaerei è, un paio di altre imbarcazioni militari importanti, e lì facciano approdare i migranti, non ci vuole niente a fare una passarella a mare, per farli salire, imbarcarli, fare lì le opilazioni che si devono fare sulla terraferma, e cioè la identificazione, tutte le perquisizioni di questo mondo, lì si rifocilla, lì si lava e poi lì si smisti nei centri ai quali sarebbero destinati. E qua veniamo al secondo punto, dicono che a Milano ci sarebbero 200.000 immigrati, ma è una vergogna, è una vergogna, e le avete contati quanti sono gli immigrati che stanno a lavorare per la coltivazione della vigna e la raccolta dell'uva a Mazzarrona come a Canicattì, nella raccolta dei fichi d'India, nella raccolta delle arance, quante squadre ci sono che a Cottimo raccolgono le arance in provincia di Catania e di Siracusa, totte a chilo ci sarà magari un caposquadra italiano e poi rumenio ed albanese, e quanti tunisini o marocchini o algerini lavorano a Marsala, lavorano a Mazzara del Vallo, nei nostri pescherecci, della flotta peschereccia più grande d'Italia, quanti sono? 150.000, perché non fanno i conti anche su questo? Oppure al nord non ne possono andare di questi immigrati? Ma che vergogna di governo sarebbe quello che francamente non è in condizione di far fare a tutte le regioni la propria parte, perché Bossi si mette a dire fuori dalle palle, ma veramente c'è da rivoltarsi, e dove sono i nostri cosiddetti ministri? Lì almeno per la Puglia Mantovano ha avuto la dignità di dimettersi, per protestare contro questa iniquità. Qua non c'è una parola che si dice, che dobbiamo fare, anche qua una grande manifestazione, perché ci sia finalmente l'Italia, è un governo per tutta l'Italia. Grazie. Grazie.